Ottica Catalanotto Perché siamo il primo franchising nel settore ottico a fornire prodotti presenti negli store in conto vendita con il reso totale dell'invenduto. Avrai inoltre una supervisione da parte della casa madre e sarà eseguito in tutte le fasi, dall'apertura del negozio alla gestione dello store, con un supporto continuo durante tutto l'anno. Le campagne pubblicitarie sono dirette e seguite interamente dall'azienda. Avrai una fornitura costante delle nuovissime collezioni di occhiali e di lenti oftalmiche dei migliori produttori del settore. Per maggiore informazione ti invito a prenotare un appuntamento telefonico con i nostri consulenti franchise.